la partita di oggi purtroppo ci è stata una partita oggi e non possiamo fare più lungo perché è tardi però visto che siete rimasti tutti la sorpresa guarda che ci sono ci sono sorpresi che ci sono che ci sono che ci sono poi va a vedere pura sorpresa ma buono hai capito sei ok non poi vedere una minigora ala che c'è che il corpo che il corpo che il corpo fica tutto mole che il corpo che il corpo che il corpo che il corpo è un corpo Buongiorno. 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 Un applauso, carioquissima, carioca, 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 rio de janeo, mara! Ok, 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 ok ... Mara! Mara, di solo, un acquibo sempre perchè fa chupcasting la figura. Mara? Ah, ho destoni peniado, corretta bebi viste? Ar 11 bet um po ... Comunque tu hai una amiga ... Sem uma cheima de um bara pe um neve ... Passando, passando, una a una Desgraciato, un vestirino così, non? È passato a fianco e Amigliato passando Mamma è tosta, tosta, mamma è tosta Agora Desgraciato È la mamma da Lora Voi toccare pro Lava A Lora, invece Non sembra Ma è un altro tipo di Brasile È un altro Brasile È un Brasile più Europeo È una bella locura, non è Brasile Qu'è la bella ureopola da noi? Dimasi, oh Dimasi, oh Quando linda Linda, maravigliosa Un applauso a Raffaele Male, male, male Male, 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 male Male, 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 male Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale